Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news e nuovo video di aggiornamenti su Call of Duty Advanced Warfare Se ben ricordate qualche giorno fa avevo fatto un'anteprima di quelle che sarebbero state gli esoscheletri e le mie memetiche in arrivo da qui a poco su Call of Duty Advanced Warfare Ebbene proprio da oggi sono disponibili 4 nuovi esoscheletri al momento soltanto su Xbox One e Xbox 360 ma non tarderanno ad arrivare anche sulle altre piattaforme quindi PS3, PS4 e PC I 4 nuovi esoscheletri si chiamano Backdraft, Biohazard, Psychedelic e Tombstone Ovviamente li potremo trovare all'interno ed esclusivamente all'interno dei Supply Drop avanzati quindi i Supply Drop che si possono sia sbloccare durante le partite pubbliche oppure quelli che si possono acquistare direttamente al negozio con tutti i vari pacchetti E partiamo subito con Backdraft Backdraft ricorda molto almeno secondo il mio punto di vista la mimetica magma sempre con questi quasi scariche elettriche questo fuoco questo rosso e sinceramente questa spero sinceramente di trovarla perché è molto bella e si andrebbe ad abbinare molto bene alla mia mimetica magma Questa era Backdraft Poi abbiamo Biohazard, quest'altro esoscheletro soprattutto particolare per quanto riguarda la parte superiore Questo casco sembra quasi veramente quelli che stanno all'interno dell'industria dove ci sono acidi nocivi e acidi veramente dannosi e quindi un esoscheletro, una tuta veramente molto particolare con richiami di verde soprattutto e di nero Ma la cosa che è molto particolare è soprattutto il casco Terzo esoscheletro che potremo trovare è Psychedelic, praticamente immaculato con giallo, rosa, viola, un po' di azzurro e qualche verde Molto bella, mi ricorda una mimetica che al momento non mi viene in mente su Black Ops 2 quindi anche questa sinceramente spererei di trovare Quindi la prima, quindi Backdraft e Psychedelic al momento sono quelle che mi piacciono di più ma quella che secondo me è la più bella di tutti è Tomston Particolarissima, sembra veramente quella di uno sceriffo, di un qualcuno che sta all'interno del Far West che deve fare uno scontro, uno contro uno con le pistole E' bellissimo la parte esterna, quella proprio nella parte posteriore dell'esoscheletro con queste corna proprio al richiamo dell'antico Far West di andare a cavalcare un toro Ma bello soprattutto il cappello, questa sinceramente è la più bella dei quattro esoscheletri Quindi se potessi fare una classifica vi metterei Tomston, al secondo Psychedelic e Backdraft e all'ultimo posto Beazard Fatemi sapere voi qual è il più bello esoscheletro che vi piace dei quattro e quale stati al momento trovando e quale appunto troverete nei prossimi giorni all'interno dei supply drop avanzati di Call of Duty Advanced Warfare E se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale Grazie